Viaggio a Tulum e il viaggio di G. Mastorna, detto Fernet, sono i due film mai realizzati da Federico Fellini. Parlare di Federico Fellini all'interno della grande Kermesse di Cartoon Club è sempre una forte emozione e quest'anno abbiamo voluto anche noi aggiungerci a quella che è la festa riminese dedicata a questo grande regista conosciuto in tutto il mondo con una mostra appunto dedicata a queste due storie, a queste due storie a fumetti che sono state realizzate niente po' di meno che dal grande Milo Manara. Milo Manara e Federico Fellini si sono conosciuti nel 1983 per merito del giornalista Francesco Mollica, giornalista e critico cinematografico ed è nata un'amicizia immediata di quelle proprio spontanee e forti e felici. Federico Fellini parte per un viaggio nel 1985 e ritorna in Italia dopo aver incontrato Carlo Castaneda, filosofo esoterico e rimane colpito e racconta una storia e la scrive intitolata Viaggio a Tulum con la N finale. Questa storia a puntate viene pubblicata sul Corriere della Sera in terza pagina e guarda caso viene illustrata proprio da Milo Manara. Bene, dopo questo fatto Federico Fellini si innamora pazzamente del segno di Milo e decide di affidargli la storia completa di Viaggio a Tulum e ne lascia una graphic novel, un romanzo bellissimo ancora pubblicato e rintracciabile in tutte le librerie. La mostra propone tutta la storia completa all'interno di una location ancora straordinaria come quella del foyer del teatro Poletti di Rimini, detto anche Teatro Galli. Sempre nello spazio mostra dedicata a Viaggio a Tulum troviamo anche il primo ed unico capitolo di Il viaggio di G. Mastorna, detto Fernet. Primo e unico capitolo perché? Perché la leggenda racconta questo. Allora intanto Federico Fellini, per chi lo conosce, sa che alla fine dei suoi film non c'è mai la parola fine. Non c'è mai la parola fine perché Federico Fellini ebbe modo di dire, dichiarandola ad un'intervista, che mettere la parola fine era un po' come uccidere i personaggi di quel film, di quella pellicola. Purtroppo successe che nella prima puntata, alla termine della prima puntata del Viaggio di G. Mastorna, di cui si possono vedere tutte le tavole all'interno di questa mostra, l'editore ci mette la parola fine. La leggenda dice che Fellini rimase talmente scocciato e decise di non portare avanti il progetto. Sarebbe stato un altro grandissimo lavoro perché peraltro il Viaggio di G. Mastorna, detto Fernet, a differenza della storia Viaggio a Tulum in bianco e nero, fu realizzato con la tecnica della mezzatinta proprio da Milo Manara in un momento davvero magico di questo artista con delle tavole straordinarie, veramente splendide, dei capolavori assoluti. Grazie a tutti.